Un cordiale buongiorno da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla FIPILI dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze. In A1 si segnalano possibili disagi a causa di un restringimento di carreggiata tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. Sul raccordo Siena Bettolle per lavori di pavimentazione è chiuso lo svincolo di Taverne d'Arbia in entrata e in uscita in direzione Bettolle. Per i cantieri della città di Firenze invece via dell'Osservatorio si ricorda che è chiusa per lavori alla rete del gas fra via Dazze e via di Boldrone, chiusura anche per via del gioiello fra via Dazze e via dell'Osservatorio fino al 16 aprile. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!